Riprendere la proposta della commissione ad hoc sull'ospedale di Sulmona e vedere il da farsi perché non possiamo permetterci di perdere ancora tempo ad affermarlo a un datg il coordinatore di sovranità Valle Peligni, Alberto Di Giandomenico, che interviene a proposito del dibattito sulla sanità all'indomani del Consiglio Comunale, che ha respinto l'ordine del giorno, presentato dai consiglieri di minoranza e ha rinviato l'istituzione di una commissione specifica sull'ospedale. La proposta era stata lanciata dal consigliere di alleanza per Sulmona, Mauro Tirabassi, a fronte dell'ordine del giorno, presentato da De Gennaro, Lucci e Di Rienzo. Per Di Giandomenico è il momento di guardare le varie posizioni per mettere nero su bianco. La regione deve essere chiara nei confronti del nostro ospedale, rincare il leader di sovranità. Sono convinto che un buono socomio lo fanno soprattutto i medici e il personale ed è per questo che ne dobbiamo batterci, aggiunge Di Giandomenico. La stabilizzazione del personale è una delle richieste che il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, ha avanzato ieri al direttore generale della Slavezzano Sulmona L'Aquila, Rinaldo Tordera. Dal manager sono arrivate le assicurazioni sul futuro del punto nascita e sul corso di scienze infermieristiche. È proprio su questo che Di Giandomenico pretende certezze. In molti hanno aperto uno spiraglio sul punto nascita, ma è necessario che questa volontà venga formalizzata, chiosa il coordinatore di sovranità. Grazie a tutti.